Derubata nel parcheggio di un supermercato ha immediatamente chiamato la polizia che, anche grazie alle sue indicazioni, ha fermato una banda di ladri. È successo ieri mattina attorno alle 10 ad Arezzo a finire in manette tre persone, tutte originarie dell'Ecuador, residenti a Roma e con numerosi precedenti perfurti. La vittima si trovava nel parcheggio di un centro commerciale a Retino e stava riponendo i sacchetti all'interno della propria auto quando ad un certo punto è stata distratta dal rumore di un mazzo di chiavi gettate a terra da un uomo. La donna, si è così distratta in una manciata di secondi, una complice, secondo un piano ben collaudato, si è introdotta nell'auto e ha fatto sparire la borsa della signora. I due poi si sono dati alla fuga a bordo di una macchina condotta da un terzo complice. La donna, così chiamato il 113, la sala operativa, ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti, dopo aver visionato le immagini del parcheggio, sono riusciti a risalire al modello e al colore dell'auto dei fuggitivi. È stata così diramata una nota di ricerca per tutti gli equipaggi di polizia presenti sul territorio. I tre ladri sono stati sorpresi dagli agenti della squadra volante di fronte ad un altro supermercato di Via Alfieri mentre stavano cercando di mettere a segno altri furti. I malviventi sono stati così bloccati e perquisiti. All'interno dell'auto avevano ancora la borsa della signora. I tre sono stati arrestati per furto aggravato e denunciati per il reato di possesso inciustificato di strumenti atti alle frazione. Nei loro confronti, il fine, il questore di Arezzo ha disposto un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Arezzo per tre anni.